Qualcosa si è smosso dopo il servizio, le vostre istanze, però insomma in parte non siamo ancora a posto. Alcune persone che hanno visto l'accaduto, siamo contenti che sono venuti ovviamente, però quando hanno visto lo spettacolo che è degradante, hanno detto ma sono venuti a farvi dei dispetti. Tra l'altro qualcun altro ha aggiunto, sono venuti, hanno tagliato e uno schifo vi hanno lasciato. Basta guardare lungo la scarpata e naturalmente tutta la sporcizia e l'immondizia è visibile. Qui passano i turisti, vedo molti turisti con la bicicletta che vanno verso Pesero e notano queste cose. Abbiamo anche chiesto ma perché all'Ido venite a pulire ogni giorno, io vedo operatori ecologici ogni giorno e qua non venite mai non rispondono. Quindi di nuovo invitiamoci responsabile a prendersi cura di questa zona perché è sempre veramente dimenticata totalmente. Quindi qui ci sono anche i miei concittadini che accusano le stesse cose e vorremmo che finalmente un'attenzione un pochino più vera, perché non c'è mai stata, per questa zona oltre l'Arzilla. Fanno non finisce l'Arzilla ma continua, noi siamo in questa parte che continua. Quindi vi prego, assessori, sindaco, responsabili, quelli della venite a vedere, venite a darci una mano perché noi continuamente puliamo, continuamente, però non ce la facciamo. La sporcizia è comunque un problema perché c'è e lì si vede. Mi basterebbe poco per mandare qualcuno a prendere, a portare via tutto, si farebbe un attimo. Non so per quale motivo invece non viene fatto questa cosa qua.